Signor Baxter, sono Peter Blanchard, rappresentante del Dipartimento di Stato, Alexei Volkov, capo della sicurezza dell'ambasciata. Volkov è il capo della sicurezza. Non è un incarico di alto profilo, per tante segreti. Qual è il problema? Sembra che occorra un documento per entrare qui. Il Dipartimento non mi ha messo in lista. Come facciamo? Proviamo a notare le pubbliche relazioni. Chi la doveva?